Peugeot alza il sipario sulla nuova 2008 in consegna alle Jeep Wrangler 1941 designed by Mopar a bordo di Mini Country Menesee fra i ghiacci del circolo polare artico. Cambia fuori dentro e anche sotto al cofano la nuova Peugeot 2008, la rinnovata versione del modello della Casa del Leone, si presenta infatti profondamente rinnovato negli esterni nell'abitacolo dove viene aggiunta una massiccia dose di tecnologia e anche nelle motorizzazioni con la possibilità di scegliere per la prima volta anche la 100% elettrica, 4 allestimenti Active, Valour e le top di gamma GT Line e GT, una volta aperta la portiera si sale a bordo qui è difficile non accorgersi delle nuove dotazioni come l'iCockpit tridimensionale, il grande touchscreen al centro della plancia e l'head-up display comodissimo per tenere gli occhi sempre sulla strada. La nuova piattaforma modulare assicura una buona abitabilità soprattutto per chi si è davanti e un bagagliaio con una capacità iniziale di carico di 434 litri che può arrivare fino a 1467. Tecnologia al servizio del comfort ma anche e in particolare della sicurezza grazie ai sistemi ADAS di livello 2, alimentazioni benzina e diesel alle quali si aggiunge anche l'elettrica. Sono in consegna negli showroom Jeep i primi esemplari dell'inarrestabile Wrangler 1941 design by Mopar, un modello a trazione integrale con un allestimento 100% street legal dotato di Jeep Performance Parts. L'allestimento speciale protagonista del Media Drive organizzato nella rinomata località di Champoluc in Valle d'Aosta, qui tra le vette innevate il nuovo modello sta mettendo in risalto le affinità condivise tra gli amanti della montagna e degli sport invernali, gli appassionati del mondo Jeep e della personalizzazione by Mopar. La configurazione specifica prevede il kit assetto rialzato da due pollici, Performance Rock Rails, battitacco neri, paraspruzzi, sportello carburante nero, tappetini, all weather e snorkel. Il kit è poi arricchito dalla grafica 1941 sul cofano, che ricorda una data simbolo per il marchio, la nascita della Willis. L'allestimento è disponibile sulle versioni Wrangler 2002 diesel a due e quattro porte e sugli allestimenti Sport, Sahara e Rubicon. A bordo di mini countryman Cooper SE per affrontare un viaggio unico e sostenibile al di sopra del circolo polare artico alla scoperta delle isole Lofoten, dove le strade costeggiano le acque turbolente del mare di Norvegia. Le Lofoten stanno per ricevere la certificazione di destinazione sostenibile, un marchio di qualità dato alle località che lavorano in modo sistematico per ridurre l'impatto negativo del turismo. Mini ha scelto quindi di intraprendere questa esperienza indimenticabile nel rispetto della natura e dell'ambiente locale, andando a caccia dell'aurora boreale con il primo modello del marchio britannico, equipaggiato con un propulsore ibrido plug-in che offre la possibilità di vivere una mobilità esclusivamente elettrica. Il powertrain del veicolo è formato da un motore endotermico, tre cilindri e benzina, al quale si affianca un elettrico sincrono. I due motori generano una potenza di sistema di 224 cavalli che consentono di avanzare elettricamente per 57 chilometri, non solo nel traffico di città, ma anche fuori dagli ambienti urbani con una velocità massima di 125 km orari.